sostituzione infissi con controtelaio ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi la sostituzione di infissi con controtelaio è la migliore sostituzione che si può fare in istituzione perché si va appunto a installare un nuovo controtelaio che è una cosiddetta predisposizione creata appositamente per il tipo di serramento che hai scelto però è un tipo di intervento che si può fare solamente se quella casa non è abitata o se quella porzione di casa non è abitata perché andare a installare un controtelaio vuol dire chiamare un muratore che ti rompa tutto quello che c'è di vecchio ti vada a segare a creare un vano nel muro un pochettino più grande per installare un nuovo controtelaio fare l'intonaco fare un sacco di polvere di sporcizia di macerie e in una casa abitata ti posso assicurare che è molto poco piacevole ho visto fare tanti anni fa da un nostro cliente che si è impuntato l'ha voluto fare tutti i costi ma poi mi ha confessato che se dovesse rifarlo non lo farebbe mai più al mondo ma tutti gli avevamo sconsigliata come soluzione ma evidentemente non è voluto stare ad ascoltare ecco se hai bisogno di un consiglio su quale soluzione adottare per il tuo caso specifico quali serramenti scegliere puoi comunque avvalerti il servizio di consulenza con sistema misaki dove posso aiutare tutti quelli che magari abitano lontano da noi non possiamo servire direttamente quindi con un consiglio disinteressato a trovare la soluzione migliore per il tuo caso specifico e magari trovare anche il preventivo migliore tra quelli che hai già fatto migliore intendo sempre un preventivo che sia fatto bene che ti garantisca una posa in opera accurata che abbia delle garanzie e che ci sia tutto quello che col sistema misaki facciamo per garantire un lavoro a regola d'arte su ospn di più vai su www.blogbisaki.it ciao e il prossimo video www.blogbisaki.it Grazie a tutti.